Allora scusa abbiamo un tempo limitato, siamo in diretta con la trasmissione a tutto campo su Facebook un tifoso chiede se darai le dimissioni dopo questa sconfitta o se non le darai perché? Io riporto la domanda. Io non sono in una trasmissione sportiva, ho fatto un'intervista e quindi rispondo alle domande che mi puoi fare sulla partita. Questa domanda delle dimissioni non vuoi rispondere? Da parte di un tifoso su Facebook? Non mi sembra neanche normale che tu mi chieda di dare le dimissioni. No, no, che sia normale io lo vedo fare anche su Sky, cose del genere, su trasmissioni. Qua siamo a Castelfilardo, non siamo. Va bene, allora lo chiedo io dopo questa sconfitta darei le dimissioni. No. Va bene, grazie a Roberto Cappellacci, ti ringrazio. Cappellacci non brilla di certo per lo stile quando proviamo a coinvolgerlo in una legittima domanda virtuale proposta da un tifoso che stava seguendo la trasmissione in diretta a tutto campo e della quale domanda ci siamo fatti semplici messaggeri per il tramite pure della conduttrice Benedetta Fazio. Nell'epoca dei social network è facile assistere a domande interposte anche nei principali talk show sportivi per Cappellacci non eravamo su Sky e su questo ha ragione perché si era su Telemolise. Ha ragione pure quando ha asserito di trovarsi a Castelfidardo quasi a denigrare la ridente località marchigiana laddove effettivamente era anche lui a guidare una barca che per ora fa acqua da tutte le parti. Nessun intento polemico da parte nostra sia nel farci la Tori della domanda del tifoso Rossoblu sia successivamente nel farla nostra e girarla al diretto destinatario. I giocatori Rossoblu accolti ieri sera dalle proteste di uno sparuto gruppetto di tifosi presenti al ritorno in Molise del Pullman stamane hanno svolto una seduta di allenamento. La società infatti poco dopo la fine della partita di Castelfidardo ha deciso di trattenere a campo basso tutti i giocatori.